Buon pomeriggio Spalletti, è stata una settimana molto importante, ricca di avvenimenti, le chiedo quali sono le certezze, pensando allo stretto futuro, al futuro prossimo, 90 minuti contro il Sassuolo che lascia questa settimana e se sono state gettate le basi anche per cominciare a progettare il futuro insieme. Le certezze di questa settimana sono quelle tracciate dal Presidente, nel senso che lui ha, o perlomeno spesso si racconta di lui di essere come un caterpillar, ma in questo caso ha dimostrato grande sensibilità nel vorer riunire tutte le componenti del Napoli calcio per rinforzare quel corpo unico che ci ha dato tante soddisfazioni in tante partite durante la stagione e secondo me è stata la cosa giusta da fare. e poi è stato presente agli allenamenti e la sua presenza dà sempre poi degli stimoli ai calciatori essendo lui il proprietario del Napoli. ha avuto la sensibilità di parlare con tutti a queste scene, di soffermarsi ai tavoli dei ragazzi e di venire a rendersi conto di quello che è il momento attuale, per cui diciamo che si riparte da questo gruppo compatto, gruppo forte, unito, compatto, che vuole ancora di più raggiungere l'obiettivo di inizio stagione che è la Champions. No, per quanto riguarda il futuro non abbiamo parlato di niente perché poi siamo tutti molto proiettati e molto determinati a voler far bene queste quattro partite visto quello che ci è successo soprattutto nell'ultima trasferta di Empoli e soprattutto il Presidente ha a cuore questo per cui ha trasferito questo messaggio qui senza andare a mettere altra roba insomma in quella che è stato il suo incontrarci. Sport Italia. Sì però, Minister buonasera, volevo insistere su questo argomento perché lei dice sempre il futuro è domenica, il futuro è domani, però dalle parole del Presidente ci sembra che l'ha praticamente blindata, nel senso che il futuro suo è qui a Napoli e volevo chiederle rispetto anche a quello che sarà la rifondazione di questa squadra l'anno prossimo se sente l'ambizione, la voglia e il desiderio di imbattersi in questa nuova avventura col Napoli. se a me mi parla di futuro, il mio futuro è la partita di domani, è l'allenamento di stamani, la cena di stasera è la partita di domani, se poi mi parla di quello che è che è il futuro della mia professione è quello di avere un altro anno di contratto, un altro anno dove c'ha l'opzione la società e io voglio rimanere a fare l'allenatore del Napoli perché ho firmato un contratto di due anni e io mi sento benissimo in questa posizione, in questa città, in questo ruolo, per cui non vedo quale problema ci potrebbe essere. Però quando parlate di futuro, se poi me lo attribuite a un futuro che riguarda i prossimi due anni è differente, io parlo di futuro da un punto di vista d'allenatore e quando si parla di futuro noi che facciamo questo mestiere andiamo sempre ad avere il riferimento di quello che è il futuro immediato, di quello che è la partita successiva, quello che verrà dopo riguarda poi dopo la partita e dopo la fine del campionato. Corriere dello Sport e si prepara la Repubblica. Eccomi qua, buongiorno, so bene che in condizioni del genere, dopo una settimana del genere abbiamo tutti un'età per sapere che ci sono cose che non necessariamente si devono poter dire. Però allora ne chiedo una che si può dire. Oggi Spalletti, come sta? Oggi io come sto in che senso? In funzione della delusione dell'ultimo risultato? Io non sono contento di quello che è stato l'ultimo risultato e di quello che è stato l'atteggiamento della squadra nell'ultima partita, di quello che è avvenuto dentro la squadra. Come non è contento nessun componente della società e come non è contento nessun calciatore della squadra, però poi bisogna fare, tecnicamente si dice zoom out, cioè si fa zoom in quando uno vuol tirare fuori una cosa che gli pare, focalizza una situazione e dice quello che gli pare di quella situazione. Poi però soprattutto in un campionato di calcio va fatto uno zoom out dove si va a prendere quello che è successo sempre. Si va a prendere quello che è successo sempre e io mi sento benissimo nella situazione. poi è chiaro che eravamo stati bravi a creare una chance importante e non siamo stati altrettanto capaci di sfruttarla, quello è un dispiacere che abbiamo tutti, però poi se si fa zoom out e si guarda nella sua completezza, si guarda un grafico allargato all'intervallo temporale di tutta la stagione, io ci sto benissimo dentro questo risultato qui, perché siamo ancora in lotta per la Champions, è quello che volevamo all'inizio e ci siamo a quattro domeniche dalla fine in lotta per la Champions, per cui se uno la guarda nella sua completezza, è una realtà dove noi ci si sta tranquilli di aver fatto quello che è il nostro lavoro, insomma ecco, è fatto bene. La Repubblica e si prepara la gazzetta dello sport. Sì, eccomi qua, buonasera. Mi sembra di capire che quindi non ci saranno rimpianti alla fine, le volevo chiedere, bastano anche a lei questi tre, quattro punti nelle ultime quattro giornate, come ha detto il Presidente, o si aspetta di più comunque in questo finale di campionato? No, io aspetto che la squadra abbia una reazione corretta per quello che ci è avvenuto, anche se poi dentro quel risultato lì io ci vedo molte cose, o perlomeno dentro l'analisi della partita ci vedo molte cose fatte bene e poi anche altre fatte male, però sono quei dieci minuti che costano molto, dove ci sono stati degli errori tecnici che noi abbiamo analizzato, tipo quello che in alcuni momenti siamo stati lunghi come squadra, abbiamo preso delle ripartenze che non dovevamo prendere, perché quando succedono queste cose qui da un punto di vista nostro si guarda bene tecnicamente quello che è successo, si preparano delle clip da far vedere alla squadra e si guarda quello che non dobbiamo ripetere, poi è chiaro che viene fuori un risultato così clamoroso, crea una reazione e si va sempre a ritirare fuori le stesse manfrine e si tirano fuori tutti gli anni e questo litiga con quello e l'altro litiga con quell'altro che non si parlano, tutte queste situazioni di minestre riscaldate che si tirano fuori sempre, sono sempre stato così, io 25 anni faccio allenatore e sono sempre stato in questa maniera qui, non è successo tutto ciò, è successo che abbiamo commesso degli errori, abbiamo perso una partita che non dovevamo perdere per come l'avevamo preparata e per quello che era il risultato, però poi nel calcio ce ne sono tanti di risultati che hanno ribaltato qualsiasi logica, si fanno le cose con grande professionalità, si fanno le cose con grande attenzione, il Presidente ha voluto darci una mano, è sempre ben accetta, la mano che ci ha dato il Presidente e abbiamo lavorato nella maniera corretta e ora vogliamo tentare di vincere questa partita qui, intanto. E poi si parla delle successive, si va a analizzare quello che è stato il comportamento dei calciatori e mio dentro le partite. La Gazzetta dello Sport si prepara il Corriere della Sera edizione Napoli. Senti, il Presidente ha detto che ci siamo ingolositi tutti sullo scudetto, quindi anche addetto ai lavori eccetera, io mi sono dato una risposta per me perché mi ero ingolosito, cioè perché al 3 di aprile praticamente si era in testa, poi il giorno dopo era un punto dalla vetta a Napoli con il recupero del Milan. Lei perché sei ingolosito? Perché secondo me, ingolosito vorrebbe dire che avevamo voglia... Creduto. Sì, ciò ha creduto, perfetto, volevo non sbagliare. Io, perché la squadra in alcuni momenti aveva fatto vedere di giocare un calcio fantastico e di avere poi delle reazioni anche in base alle sconfitte altrettanto importanti. per cui secondo me era il momento di tentare, come ho già detto, di spingere sul gas e di rendere responsabile o perlomeno partecipativa la squadra che ci si potesse fare a stare in lotta con quelle squadre che ora se lo stanno contendendo. Poi invece per un motivo per un altro non ce l'abbiamo fatta perché qualche punto per strada l'abbiamo perso e c'è successo a intervalli però c'è successo più di una volta di lasciare dei punti per strada che potevano essere portati a casa e quindi bisogna rendersi conto della realtà ed accettare quello che è stato il risultato sul campo. mantenendo però poi, o perlomeno non portando questa delusione a un livello tale da far oscurare che siamo in piena lotta per la Champions fin dalla prima partita, che era il nostro obiettivo perché noi siamo stati in lotta per la Champions dalla prima partita, cioè siamo stati sempre dentro che è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è riuscendo a mettere tre o quattro squadre di quel condominio fuori, squadre di un livello che poi ora sembra che facciano un grande campionato. per cui diciamola nella maniera corretta la cosa e ragioniamola nella maniera corretta però la delusione di non aver partecipato fino a un fondo a questa lotta è una cosa che è successa e che ci dispiace per noi e soprattutto per i nostri sportivi che ci sono sempre stati vicino e che quest'anno ci hanno dato una mano importante, ci hanno fatto sentire importanti fino all'ultima partita dove erano in 4.000 lì a Empoli. Corriere della Sera, Napoli e si prepara il mattino. Mister, come valuta anche sotto il profilo dell'equilibrio di squadra l'atteggiamento avuto con Mertensio Simen insieme al primo minuto e se può essere una soluzione anche per domani? La valuto in maniera positiva perché hanno fatto delle buone giocate Mertensio Simen sono sicuramente due calciatori problematici per le difese avversarie e per le squadre avversarie però è chiaro che poi, come ho detto già anche l'ultima volta, io sono anch'io un tifoso di Mertens in quanto calciatore, però poi io sono anche allenatore e devo pensare anche a un equilibrio di squadra e dentro la partita, quando ho detto che tecnicamente nell'analisi qualche volta siamo stati bravi ad essere corti, ad avere reparti equilibrati, c'è anche dentro la situazione di Mertensio Simen ha altre caratteristiche di un centrocampista anche se offensivo e quindi bisogna essere bravi a tenere più palla, a non permettere queste ripartenze come abbiamo preso poi dentro la partita pur essendo un vantaggio, però riguardo alla partita di domani possono rigiocare benissimo insieme, possono sempre giocare insieme, domani sarà una partita scomoda, sarà una partita difficile perché loro giocano bene a calcio e dipenderà molto da chi tiene la palla il risultato di domani, perché se la tengono loro per noi diventa una partita difficilissima, se invece saremo bravi a tenerla noi allora sarà invertita la situazione e il pericolo, però possono giocare insieme. Il mattino e si prepara Radio Kiss Kiss. Sì salve, buonasera mister, giustamente lei faceva prima riferimento ai tifosi, insomma anche a quelli che vi hanno seguito ad Empoli, da questo punto di vista la risposta di Napoli per domani è sicuramente molto poco incoraggiante, che cosa si sente di dire ai napoletani in vista di questo finale di campionato, insomma anche in vista del futuro. Non è un incoraggiante, a che numero si riferisce? Quanto è? Quanto? Siamo oltre 20 mila. Fallo dire a lui, scusa, se dice così lo saprà. Lo sa, non lo sa. Pensavano anche che fosse morto. Hai avuto un dato da qualcuno di questo? Va bene, devo fare la domanda di riserva. Fai la domanda di riserva? Perché sono 20 mila, per cui non sono 3-4 mila. Non ci sta andando la notizia però. Da chi? Non ci sta andando la notizia. No, il dato da chi l'hai avuto, sarei curioso di sapere. La fonte. La fonte. Ma la fonte... Però, per quanto riguarda il pubblico, quello che sono i nostri rapporti con loro non cambiano. Cioè, è difficile venire a far parte del Napoli e non essere innamorato di Napoli e del Napoli. È difficile. Dopo un mese che ci vivi, anche se non fai vita mondana come me, però te ne accorgi, perché da tutte le parti che ti giri, e se una sera vai a cena in un ristorante, riesci a percepire delle sensazioni che ti impongono. E io penso per quello che mi hanno manifestato, poi anche dopo questa sconfitta, pur essendo amareggiati, avendo una reazione, però è sempre una reazione del tifoso dispiaciuto, perché è troppo innamorato di questa squadra e di questi colori, di chi si mette poi la sua maglia. Sono innamorati della maglia, i tifosi sono innamorati di tutti quelli che vestono quella maglia, questa maglia. E vogliono dargli un sostegno, ecco. Poi lo vorremmo tradurre per forza in un momento difficile o in un momento di difficoltà, come è stato riportato. Io mi auguro sempre di trovarmi di fronte a un tifoso di questo genere, a una città che reagisce in questa maniera qui, nei miei momenti di difficoltà. che avrò in futuro. Vorrei sempre avere a che fare con questa gente che ho intorno adesso, per quello che è stata la reazione che io ho potuto vedere personalmente. Che sono delle reazioni belle, anche se dispiaciute, perché sono di facile lettura, che sono dispiaciuti e che vogliono bene al Napoli, che vogliono tentare sempre di fare più risultati, è chiaro. Radio Chris Chris si prepara a Canale 8. Buon pomeriggio mister, sono qui. Scusami, scusami. Buon pomeriggio mister. Il Presidente ha esternato una sensazione nel corso di questa settimana, ovvero che le altre squadre ne avessero di più, corressero di più rispetto al Napoli. È una sensazione supportata anche dai dati in vostro possesso oppure è una sensazione che arriva da un osservatore esterno, diciamo così. Fa sempre parte un po' di quello che è stato il discorso tattico tecnico che ho fatto prima. Quando sei in fase offensiva e rimani magari con un calciatore o due in più sopra la linea della palla o non sei brava a gestire l'uomo contro l'uomo sulla ripartenza e ti costringono a fare poi 100 metri andando all'indietro, quello lì dall'occhio dello spettatore appare un momento di difficoltà da un punto di vista della preparazione della squadra, della condizione fisica della squadra. Però non è così, è sempre una cosa tattica che se poi non hai equilibrio, non hai le distanze giuste, quando perdi palla devi essere nelle condizioni di riaggredirla subito lì nella zona dove l'hai persa e si chiama riaggressione. Perché se sbagli quella riaggressione lì poi, essendo in molti uomini in fase offensiva, e noi purtroppo vogliamo fare questo, è una scelta che abbiamo fatto dall'inizio dell'anno, di andare ad attaccare, di andare qualche volta a lasciare parità numerica dietro. Perché a me non piace un calcio dove si sta dentro l'area di rigore tutti ad aspettare gli avversari. Non lo so spiegare, non saprei essere credibile a insegnarlo ai calciatori. Si vuole andare a attaccare, si vuole andare a fare la partita, quando si perde palla si vuole tentare di riprenderla lì. Poi è chiaro che ci sono determinati momenti dove siamo tutti al limite dell'area e bisogna anche difendersi dalla forza degli avversari. Però intenzionalmente siamo quelli lì. Se noi prendiamo tante di quelle ripartenze lì e ci sono dei momenti dove perdiamo di equilibrio in quella maniera lì, può sembrare che siamo meno in condizione dell'avversario. però poi quelli che sono i nostri dati non ci danno delle risultanze di differenza a quello che dovrebbe essere la regola e la normalità. Canale 8 e si prepara AGL. Mister, come sta Meret dal punto di vista psicologico? Chiaramente dopo l'errore purtroppo di domenica e se domani sarà di nuovo titolare. Meret sta come tutti quelli che commettono un errore perché poi non l'ha commesso soltanto lui l'errore. L'ho commesso anch'io a chiedergli di giocare sempre la palla con i piedi anche se lui qualche volta la vorrebbe buttare più via perché è una questione sempre di impostazione mentale di quello che si vuole andare a chiappare, di quello che si vuole realizzare. Secondo me il portiere, se non lo è già, diventerà un calciatore di un movimento. Non è come dicono che il portiere deve parare. No, il portiere deve anche costruire. A volte non piace la parola costruzione. Diciamo che il portiere deve iniziare l'azione come fanno i difensori perché ormai tutte le squadre, non lo dico io che io sono una persona anziana, ma questi allenatori giovani che ci sono, che sono venuti anche qui a giocare le partite, ormai fanno tutti allo stesso modo. All'estero fanno tutti allo stesso modo. Ti vengono addosso e fanno uomo contro uomo. In questo venirti addosso non c'è possibilità di cominciare l'azione in maniera facile da un punto di vista difensivo, per cui hai bisogno della collaborazione del portiere. Cercano tutti il portiere che è bravo con i piedi a giocare, gli allenatori forti, gli allenatori bravi, non io, però cercano il portiere che è bravo con i piedi, per cui è una condizione che si allena, è una condizione che si fa per andare a giocare da una parte e portare la palla dall'altra. E nel fare questo o nel migliorare questa qualità c'è dentro il poter sbagliare qualche palla o il poter perdere quel decimo di secondo di più. E quindi è un errore come tanti, per cui il primo errore l'ho fatto io a chiedergli di fare questo, a sforzarlo di fare questo. Poi probabilmente anche qualche suo compagno vicino si doveva far vedere quando ha visto che era attaccato dal calciatore per andare a ricevere palla, perché lui era nelle condizioni di doverla giocare in quel momento lì. Per cui anche qualche compagno di squadra è chiamato in causa, oltre che me, in questo suo errore. E poi ci sono quelli che dicono che dovevano recuperare prima la palla senza far essere calcio di fondo. Siamo tutti coinvolti, insomma, il calcio di rinvio. Siamo tutti coinvolti e il calciatore ha lavorato nella maniera corretta come doveva calciare, lavorare. E poi domani, per quanto riguarda la formazione siccome sono due portieri forti può essere riscelto lui o può giocare all'altro. AGL e si prepara a calciomercato.com Buon pomeriggio, mister. Lei spesso si sofferma sul ruolo del mediano. Ecco, volevo sapere di Demme. Demme come sta? Che tipo di collocazione dare a questo giocatore che probabilmente un po' di carburante ce l'ha. Grazie. Demme sta bene. Sta bene, è convocato, è dentro le possibilità di essere scelto. È un calciatore che sa fare più cose, prima di tutto perché è un professionista eccezionale e un ragazzo intelligente. ha delle qualità facili da individuare perché lui è uno che sa giocare la palla, è uno molto rapido nel far girare la palla. È uno per quella che è la sua stazza fisica e anche uno forte fisicamente perché lui ti viene addosso, lui non ha il timore di entrare nei contrasti. naturalmente lo fa con la stazza che ha, però poi non gli puoi chiedere di andare su o perlomeno di prendere i rinvidi del portiere avversario, però poi è uno che ci va a saltare, ci mette fisico, ci mette qualità, è uno che può giocare sia davanti che è la difesa a mediano basso e centrocampista perché l'ha fatto tante volte e è uno che sa adattarsi a più zone nel campo perché in questo essere suo, in questo suo modo di fare il centrocampista lui poi spesso si ritrova anche in altre zone perché è uno molto molto disponibile al sacrificio, ecco, e allora se la cava anche in altre zone del campo. Calciomercato.com si prepara Napoli Magazine. Mister, quanto ha sentito in queste partite l'assenza di Di Lorenzo sotto il punto di vista tecnico ma anche lo spessore dell'uomo, dell'uomo spogliatoio e come procede il suo recupero? Ha parlato bene, ha parlato di spessore è la cosa giusta perché è uno che va nell'extra, nel super, forte, non nel forte, basta. lui è uno che va in over sempre in tutto quello che fa quando è in campo, va in alla ricerca sempre come abbiamo detto di cose nuove, di soluzioni nuove e a lui non importa dargli la soluzione la trova da solo quando gioca e poi è un leader anche se di quelli taciturni ma è un leader di questa squadra qui, è uno che che avercelo è differente che non averlo. Ora, domani bisogna valutare bene bisogna valutare bene anche se Zanoli ha fatto il suo ha fatto vedere di essere in prospettiva un calciatore forte e di avere molte cose che somigliano poi a Dilo però naturalmente ha bisogno di un po' di esperienza in più e per quanto riguarda la scelta di domani bisogna valutare bene la reazione di oggi di Lorenzo è andato bene però essendo molto diretti è una cosa che sceglie lui è una cosa che sceglie lui perché perché poi nella delicatezza di quello che è il problema è lui che deve sentirsi tranquillo di poterci stare anche se per il momento non è come prima che gli succedesse però io sono convinto di fare la cosa giusta a fare così insomma a metterlo in condizione di essere lui che sceglie ecco Petrazzolo eccomi qui mister al di là di quella che è stata questa settimana molto impegnativa anche dal punto di vista del dispendio di energie mentali Napoli è una piazza che vive di passioni di emozioni così come lei scrisse su quelle pettorine in ritiro dal primo giorno della sua avventura partenopea allora bisogna anche di emozioni e in questo momento in cui c'è un po' di tristezza e di amarezza per il sogno svanito sarebbe bello sentir dire da Spalletti che si riparte per vincere magari l'anno prossimo nuovamente insieme allo Scudetto con un Mertensi in più con uno Spina in più che sono calciatori scadenza ma anche dei leader veri di questo spogliatore per il momento noi dobbiamo fare un passo per volta noi dobbiamo essere tutti orientati ora a stringersi attorno o intorno al nostro obiettivo perché se prima era tutto ora lo è molto di più questa qualificazione Champions per cui ora noi dobbiamo fare quello nel momento che siamo stati primi e che eravamo lì era il momento secondo me di andare a parlare anche di qualche cosa ad altro ora è il momento di parlare di questo e di sapere che domani sarà una partita difficile difficilissima se non abbiamo un comportamento corretto e tutte le energie e tutte le attenzioni vanno buttate lì dentro perché lì dentro c'è la possibilità di essere qualificati e di poter montare sul pullman che porta nel più bel torneo del mondo e è una è un traguardo è una cosa molto bella che dobbiamo che dobbiamo far vivere ai nostri ai nostri tifosi grazie a tutti grazie a tutti